Mi svelo un altro segreto Ciao, io ho un match su Tinder con una ragazza di Livorno da circa un anno e la tipa mi rispose al primo messaggio e poi smise di rispondermi e io è da un anno che ogni settimana le mando le mando un messaggio dicendole scrivendole app cioè tipo quando vuoi mettere il thread io è un anno che ogni settimana sto mandando un messaggio a questa ragazza non mi ha ancora risposto dopo un anno vabbè non sta annullando il match io continuo a provarci scusami è molto meme fa molto ridere immagino sta qua che si apre la chat fa molto ridere a me viene il dubbio che comunque non si sia cancellato l'applicazione sicuramente sicuramente a me va a bloccare e si è disiscritta però a me fa ridere l'idea che lei quando rientra tipo su Tinder trova un pazzo che gli ha scritto per tipo due anni ogni settimana up up cioè vabbè questa è una cosa mia scusate scusate se mi sto prendendo con voi no no era una cosa carina sì 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 sì